Una lettera consegnata direttamente nelle mani di Gianni Pittella, presidente del gruppo parlamentare Socialista e Democratici al Parlamento Europeo, è ora candidato alla presidenza al centro della missiva, consegnata dalla presidente del distretto ceramico Maria Costi, insieme all'europarlamentare modenese Cecil Chiang, la difesa della ceramica italiana dalle importazioni cinesi e la richiesta di prolungamento delle misure antidumping applicate alle piastrelle di produzione cinese. Il sindaco di Formigine, insieme ad altri sindaci dell'Emilia Romagna, sono stati in questi giorni a Bruxelles invitati da Cecil Chiang. Questa è stata dunque l'occasione giusta per portare ancora una volta in Europa il delicato tema della tutela della nostra economia contro la concorrenza sleale della produzione ceramica cinese. Noi siamo qui, lavoriamo all'interno di questa istituzione, ma dobbiamo avere anche un'attenzione particolare per quello che si svolge sul nostro territorio e soprattutto in un momento come questo di crisi economica sapere tutelare anche la nostra economia, in questo caso da quello della Cina. Quindi vi farete portavoce di questo problema? Sì, l'abbiamo fatto fino adesso, ma anche nei mesi precedenti noi eravamo già intervenuti su questo tema all'interno del Parlamento. Oggi viene rafforzata anche dalla voce del territorio, quindi attraverso questa consegna. Un documento fondamentale e vitale per il nostro territorio. C'è una procedura che è scaduta, che è andata dal 2001 al 2016 ed è stato adesso rinnovato per 12 mesi la possibilità di ragionare su questo dumping che è vitale. Quindi noi tuteliamo i prodotti della ceramica e portiamo questa lettera ai membri della Commissione per dire che per noi è indispensabile sia per tutelare l'occupazione ma anche per tutelare la qualità. Le misure antidumping sono relative al fatto che non sempre i parametri e gli standard che vengono chiesti in Europa sono rispettati in altri paesi. Questo è il sostegno dei sindaci perché io in questo momento rappresento tutta l'unione del distretto ceramico e il distretto ceramico in particolare perché le regole devono essere uguali per tutti.